Il professionista dell'anno Technology è Francesco Dagnino di Lex e Avvocati Complimenti al nostro vincitore, eccolo qua già dietro di me Leggiamo insieme la motivazione Per i commissari è sficcato con un mandato fuori dagli schemi Ha curato per un operatore internazionale l'installazione, per la prima volta in Italia, di ATM fisici per l'acquisto e la vendita di bitcoin Avvocato Dagnino, ben trovato Quindi a lei l'ardo compito di spiegarci se ho capito bene È possibile fare bancomat di bitcoin? Sì, è assolutamente possibile Sono degli obblighi che i soggetti che intendono installare queste ATM devono rispettare, ma è possibile Bene, questa è una novità insomma Quanto di più fantasmatico a volte C'è anche in forte diffusione, devo dire Eh beh, no, no, su questo non c'è dubbio Vogliamo fare una dedica? Visto che insomma alla fine la stiamo quasi storcendo a tutti, ma immagino che ce l'avrete nel cuore, no? Oltre che nella testa Fa sempre piacere vincere questi premi perché sono il risultato di un lavoro duro da parte di tutto il team, quindi ringrazio i giurie e ringrazio tutti i colleghi Grazie, grazie Buon proseguimento di serata e congratulazioni ancora per questo premio L'Avvocato Danino, professionista dell'anno L'Avvocato Danino, professionista dell'Avvocato Danino